Il luogo di nascita rimane nel cuore, il luogo di residenza è qualcosa di esterno, il contesto in cui si vive, il luogo di nascita è il luogo che ti forma e te lo porti dentro per sempre. E quindi, come dico a tutti, io sono di Lanciano, mica sono dell'Aquila, l'Aquila lavoro e vivo, ma io sono lancianese. Mi fa particolarmente piacere, è vero. Questa è una delle lezioni che più sento e io mi ricordo a 18 anni quando vedi il primo Mastro Giurato nell'81, la prima edizione, mi colpì e mi è sempre piaciuta. L'ho visto quasi tutti gli anni, l'ho ammirato, papà ugualmente, malgrado l'età, non c'era anno in cui non si sistemasse o al bar del corso o lungo il palazzetto degli studi sulla banchina per vederla e ci teneva particolarmente. Ma effettivamente è una tradizione bella e ben riuscita, ben organizzata. Quindi complimenti veramente al Comitato. Lo dico sempre, oramai da tanti anni, è storia. Ci sono delle basi documentali oramai solidissime, anche fuori dal nostro Abruzzo, i reggesti di Marciani. Bellissimo libro scritto sul Mastro Giurato, ha tanti riferimenti storici fatti dall'Avvocato Russo, quello scritto da Florinda Carabba. Insomma, hanno scritto tantissime persone, per cui da questo punto di vista non c'è alcun dubbio. È una tradizione che ha delle basi storiche forti, importanti. Poi naturalmente si crea anche lo spettacolo quando si fa la manifestazione. Sì, è vero, c'è il palio, l'originale, fatto da Spoltore. Io ho fatto un tentativo con l'attuale B, per allora era BLS. La mia non è una polemica, non è nel mio stile, però mi piacerebbe che venisse donato questo palio originale al Comune di Lanciano, alla città di Lanciano. Se fosse possibile, in occasione anche dell'evento del Mastro Giurato, sarebbe ancora meglio. Mi auguro che qualche dirigente dell'attuale B, per possa ascoltare questo mio messaggio, ma l'avevo messo anche per iscritto, dicendo che sarebbe di prestigio per la città, per la banca e naturalmente per il Mastro Giurato, perché è un palio bellissimo. Una scelta di altissimo livello, mi complimento col direttivo dell'Associazione, perché oltre a essere un magistrato che dà lustro a tutta l'Abruzzo e conosciuto da molti, anche per la sua altissima specializzazione, io lo conosco professionalmente, per me, come ho detto in conferenza stampa, è anche un tuffo nel cuore, perché quando tornavo a Lanciano dalle sue vacazioni in giro per l'Italia, perché ha lavorato a Bergamo, ha lavorato anche fuori regione, non mancava una puntata a venire alla biblioteca comunale di Lanciano, sia quando era qui in Via dei Frentani che adesso a Villa Marciani, perché era amico di mia madre, insieme anche al prefetto Nanei, erano una compagnia della stessa età, si ritrovavano in biblioteca, l'andava a trovare, me ne parlava sempre benissimo della sua gentilezza, del suo modo di fare, della sua preparazione, insieme anche ad altri lancianesi, per cui per me è stata una scelta veramente ottima, non solo perché una persona competente a cui mette le chiavi della città in mano, ma anche un motivo di affetto, oltre che culturalmente rilevante. Nella prima edizione dell'81 le musiche non c'erano, poi i capi storici di tutta questa ricerca storica si chiesero che era il momento di far squillare delle note all'interno della manifestazione e si rivolsero a più persone e Mario, maestro e professore di conservatorio, ha dato vita, ha creato queste note per i quattro quartieri e per gli squilli del mastro giurato e lui ha sempre raccontato che è stato sottoposto ad esame, piacevano, non piacevano, c'è stata una bella e ricca scelta e siamo contenti perché erano passati un po' di anni in cui il nome di Mario Scaglione come compositore di queste musiche non era mai stato più citato quindi questo riconoscimento di cuore è stato dovuto e per il momento culturale credo che sia stato davvero un giusto percorso per il maestro e sono orgogliosissima che venga dato risalto a tutto questo.